che cosa sono quelle due cosine lunghe perché ha questa forma maurizio beh allora la lente fondamentalmente composta da due parti il piatto della lente che ovviamente la parte tonda al centro che è la parte ottica ossia quella che ci permette poi di vedere e poi le apte le apte sono quelle due gambette chiamiamole così attaccate al bordo della lente che permettono all'ottica di stabilizzarsi al centro del sacco il sacco è quella struttura che alloggiato in cui si alloggerà la lente artificiale è la struttura che contieneva il vecchio cristallino viene il vecchio cristallino viene rimosso e viene lasciato questo involucro esterno che costituirà poi l'alloggiamento della lente artificiale quindi sono le zampette che permettono il cristallino in posizione ma senti ma com'è che si fa a mettere un cristallino così grosso dentro l'occhio che è così piccolo è una bellissima domanda perché è stata una delle rivoluzioni dell'intervento di cataratta quello che ha permesso anche di ottenere una maggior precisione nel risultato finale ossia questi cristallini questa è la forma del cristallino quando è aperto quindi quando si trova all'interno dell'occhio ma in realtà prima di entrare nell'occhio questo cristallino si trova arrotolato come se fosse un tacos diciamo arrotolato su se stessa e quindi quando viene poi iniettato nell'occhio questo materiale ha una memoria e quindi si apre e assume la forma che vedete in foto che è la forma che poi manterrà per tutto il tempo in cui rimarrà nell'occhio quindi sostanzialmente si piega si mette lento piano piano e si apre e un altro vantaggio che sia di queste di queste lenti pieghevoli è sostanzialmente l'incisione cioè il taglietto che viene fatto sull'occhio per poter entrare è veramente minuscolo no